Sono riuscito ad abbassare il ritardo su Fortnite a meno di 4 millisecondi grazie a delle semplici ottimizzazioni. Ora infatti riesco ad eseguire più azioni e anche più velocemente rispetto a prima. Queste ottimizzazioni aumenteranno le prestazioni anche su Valorant, Apex Legends e qualsiasi altro gioco perché riguardano direttamente il sistema operativo Windows e i driver della scheda video. Ottimizzare e velocizzare il PC quindi è molto importante e non solo per ridurre la latenza di gioco ma anche per aumentare gli FPS, mantenerli più stabili e in alcuni casi si potrebbe abbassare anche il ping. La prima cosa che ho fatto è stata reinstallare Windows. Un'installazione pulita di Windows elimina qualsiasi file e programma inutile quindi dopo averla fatta sarà un po' come avere un nuovo PC. Ma passiamo ora alle vere ottimizzazioni. Iniziamo creando un punto di ripristino per salvare lo stato attuale del nostro computer. Scriviamo nella barra di ricerca punto di ripristino. Clicchiamo. Configura, elimina, continua, chiudi, ok, crea, gli diamo un nome e confermiamo. Aspettiamo che finisca e chiudiamo tutto così se sarà necessario avrai un backup per poter ripristinare le impostazioni precedenti. Ora cerchiamo update. Se compaiono degli aggiornamenti di Windows in sospeso falli tutti, anche quelli facoltativi e poi riavvia il computer. È meglio avere un PC completamente aggiornato prima di continuare ad ottimizzarlo. Dopo aver aggiornato e riavviato possiamo eliminare i file temporanei per liberare un po' di memoria. Scriviamo nella barra di ricerca percentuale temp percentuale. Premiamo invio, selezioniamo tutto ed eliminiamo. Se appare questa finestra vuol dire che alcuni file non possono essere eliminati perché aperti in altri programmi. Niente di grave. Chiudiamo e apriamo esplora file. Andiamo su questo PC, disco C, Windows, temp, selezioniamo tutto ed eliminiamo. Chiudiamo e cerchiamo pulizia disco. Disco C, ok. Selezioniamo tutto, ok, eliminazione file e aspettiamo. Si chiuderà da solo non appena finito. Ora disattiverò vari servizi che personalmente non utilizzo. Cerco mappe offline, disattivo tutto e chiudo. Cerco app in background, disattivo tutto e chiudo. Stessa cosa per app di avvio. Disattivo tutto tranne sicurezza e chiudo. Ora cerco opzioni di accesso. Scendo fino in fondo, disattivo tutto e chiudo. Poi cerco sincronizza le impostazioni. Disattivo tutto e chiudo. Su app e funzionalità invece eliminiamo tutti i programmi che non ci servono. Per esempio Skype, clicco e disinstallo. Poi OneDrive, clicco, disinstallo e così via. Adesso passiamo ai driver della scheda video. Per fare un'installazione pulita serviranno due cose. La prima è DDU Uninstaller, che è un programma per rimuovere i driver video già installati. Quindi lo cerco su Google. Entro nel sito. Scendo giù fino al link per scaricarlo. Clicco una volta e aspetto che parta il download. La seconda cosa invece sono i driver da installare. Quindi apro un'altra scheda e siccome ho una scheda video NVIDIA, cerco NVIDIA Driver. Entro nel sito. Qua bisogna mettere tutte le informazioni della propria scheda video, che nel mio caso è la GTX 1080. Il proprio sistema operativo. Driver Game Ready. E italiano. Clicco su ricerca, download e di nuovo download. Dopo averlo scaricato, andiamo nella cartella download, clicco destro sulla cartella DDU, estrai tutto, doppio clic sull'icona, lo mettiamo nel desktop, estraiamo e chiudiamo tutto. Prima di rimuovere i vecchi driver però, bisogna entrare in modalità provvisoria. Cerchiamo quindi configurazione di sistema, ci spostiamo in opzioni di avvio, selezioniamo modalità provvisoria, applica. Ok e riavviamo. Una volta riavviato, apriamo la cartella per ammessa sul desktop, facciamo clic destro su DDU un installer e lo apriamo come amministratore. Si aprirà questa finestra, qua spuntiamo l'ultima voce, ok e chiudiamo. Qui selezioniamo scheda video, mentre sotto mettiamo la marca della propria scheda video, che nel mio caso è NVIDIA. Ora premiamo il secondo tasto pulisci senza riavviare, aspettiamo finché non compare questo messaggio, clicchiamo sì e il programma si chiuderà da solo. Riandiamo quindi su configurazione di sistema, opzioni di avvio, deselezioniamo la modalità provvisoria, applica, ok e riavviamo. Una volta riavviato, possiamo installare i nuovi driver. Andiamo quindi nella cartella download e facciamo doppio clic sul file dei driver, ok e aspettiamo che termini. Qua bisogna scegliere se installare solo i driver o anche NVIDIA GeForce Experience, che registra le clip mentre giochi. Se vuoi le prestazioni migliori, seleziona la seconda opzione. Io metto la prima perché GeForce Experience mi servirà a registrare i risultati dell'ottimizzazione. Selezioniamo accetta e continua, personalizzata, avanti, effettua un'installazione pulita, avanti. Terminata l'installazione dei driver NVIDIA, passiamo alle ottimizzazioni grafiche. Faccio quindi clic destro sul desktop e poi entro nel pannello di controllo NVIDIA. Vado su regola dimensioni e posizione del desktop. Seleziono senza proporzionamento. Qui se hai la possibilità di scegliere tra GPU e display, metti display. È l'opzione migliore. Qua bisogna assicurarsi che la risoluzione coincida con quella del proprio monitor. Stessa cosa per la velocità di aggiornamento. Mettiamo il massimo disponibile e clicchiamo su applica. Lo schermo diventerà nero qualche secondo. Qua mettiamo sì. Ora vado su regola impostazioni colore. Modifico alcune opzioni a mio piacimento e poi applico. Andiamo su modifica della risoluzione e mettiamo anche qua la risoluzione PC nativa e la frequenza di aggiornamento massima. Scendo giù, attivo le impostazioni colore di NVIDIA e poi applica. Anche qua lo schermo diventerà nero per qualche secondo. Vado su configura, surround e physics. Seleziono la scheda video e applica. Poi andiamo su gestisci le impostazioni 3D. Qua alcune impostazioni potrebbero variare in base alla propria scheda video. Coppia tutte quelle che puoi. Anti-alias, tutti disattivati. Filtro struttura qualità su prestazioni elevate. GPU rendering sulla scheda video. Modalità di gestione dell'alimentazione su prestazioni massime. Ottimizzazione con thread su attivato. Sincronizzazione verticale su disattivato ma puoi attivarla se è un monitor G-Sync. Velocità di aggiornamento la più elevata disponibile. Clic su applica e chiudiamo. Ora cerchiamo impostazioni schermo avanzate. Entriamo. Controlliamo che la risoluzione del monitor e gli hertz siano giusti e possiamo chiudere. Cerchiamo impostazioni grafiche e attiviamo l'accelerazione hardware. Se usi i programmi per streamare meglio lasciarla disattivata. Chiudiamo e cerchiamo sfondo. Andiamo su colori. Selezioniamo il tema scuro e disattiviamo gli effetti di trasparenza. Chiudiamo e cerchiamo icone di sistema. Disattiviamo le icone più inutili e chiudiamo. Ora cerchiamo abilità Xbox Game Bar. Disattiviamo. A sinistra entriamo su modalità gioco e l'attiviamo. Chiudiamo e cerchiamo mouse. Opzioni aggiuntive. Opzioni puntatore. Leviamo la precisione automatica del puntatore. Applica e ok. Poi cerchiamo avanzate. Clicchiamo impostazioni. Selezioniamo regola in modo da ottenere le prestazioni migliori. Poi mettiamo personalizzate. Selezioniamo mostra anteprime anziché icone e smussa gli angoli dei caratteri. Applica e ok. Cambiamo sezione andando su avanzate. Selezioniamo programmi. Applica e ok. Cerchiamo risparmio energia. Opzioni risparmio energia. Selezioniamo prestazioni eccellenti e chiudiamo. Ora farò delle modifiche all'audio. Clicco destro sull'icona dell'audio. Suoni. Qua mettendo nessun suono disabilito tutti i suoni di Windows. Applica. Vado su comunicazioni e metto non intervenire. Applica. Vado su riproduzione. Clicco le cuffie. Proprietà. Enhancements. Disable all. Avanzate. Seleziono 24 bit. 48.000 Hz. Qualità professionale. Levo questa spunta. Applica. Corrispondenza. Ok e chiudo. Adesso farò delle ottimizzazioni per migliorare la connessione Ethernet. Cerco gestione dispositivi. Apro schede di rete. Clicco destro sulla scheda Ethernet che nel mio caso è Realtek. Proprietà. Vado nella sezione risparmio energia e levo la spunta. Ancora clic destro. Proprietà. Avanzate. E disattivo ogni cosa che riguarda risparmio energetico. Advanced triple A. Corrispondenza motivo per riattivazione. Disabilitazione automatica gigabit. Ethernet a risparmio energetico. Gigabit light. Green Ethernet. Magic packet per riattivazione. Power saving mode. Shutdown wake on LAN. Wake on magic packet. Wall e shutdown sul non rallentamento. Clicco su ok. Chiudiamo la finestra. E riavviamo. Una volta riavviato si può creare un altro punto di ripristino. Così da avere anche il backup con tutte le modifiche fatte sino ad ora. Quindi cerchiamo nuovamente punto di ripristino. Crea. Gli diamo un nome. Conferma. Aspettiamo che finisca. E chiudiamo. Ora non resta che aprire i giochi. Prevedere e sentire le differenze di FPS e di latenza rispetto a prima. I risultati non solo confermano quanto sia importante avere un PC ottimizzato. Ma evidenziano come anche pochissimi millisecondi possono fare una grande differenza. In questi altri video infatti ti suggerisco quali mouse, tastiere e monitor da gaming hanno la latenza più bassa. E mi raccomando, fammi sapere se le ottimizzazioni hanno funzionato eh. Ciao!